Dov'è? Dov'è? Cazzo Cazzo L'ho sentito comunque Stai zitto che ti ho fatto 8-1 in libera e te l'ho carriata Sì Quaresma Quaresma Sì ... ... passaggio intercettato il possesso per Kaj questo è il valore giusto è arrivato subito il gol dell'1-0 Kevin De Bruyne ecco De Hernandez è in buona posizione attenzione perché questa può essere l'azione che va in lontano occhio al tocco interessante grande possibilità attenzione pericolo e c'è il palo capisce tutto intercetta bene il passaggio posizione ideale occhio a Kaka può segnare ecco la rete la sventagliata a cambiare gioco il possesso per Kaj non è interessante di Kaka Tonani il possesso per Kaj allegri per andare no no le pokeball non le pokeball pokeball scelgo te sono andato alibi guarda movita finita per a destra lollo movi da sinistra ok fermo ok Daniel mira su eh vabbè eh vabbè ahah sono una giraffa milo per terra pof sei a jedno dove vadi? guarda che maestro c'ha le bombette io lancio sto coglione mi è muto devo salvarle non c'è qui mi ha flashato va bene po' ti capisco che siamo dentro o no? credo fra ancora capito no non più no no fra io gli ammazzo fra io gli ammazzo oddio 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 il match è godibile l'importante è cercare di voler vincere e vedi che le squadre continuano ad attaccare continuano a cercare di voler è giusto il pareggio eh fino a questo momento Pier lo vedi pallone in rete Firmino occhio alle Bruyne e con questa lo parla occhio non da ruba ma il pallone è ancora lì mancano 5 minuti se ne può andare adesso può andare da lì possono trovare il gol del pari attenzione ma può annullare occhio al contrapiede qui difesa avversaria è piazzata male qui prova a calciare che gol fantastico una grande giocata questa pallone gestito da Cruyff Gelsson Martius arrivato il quartiere pallone ancora buono e c'è il gol uovo caricatore uovo caricatore un'escrivito che è stato un'escrivito 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 Grazie a tutti. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Grazie a tutti. No, 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 no. No, 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 no. Ma che partita Devastati sta partita